Siamo con la signora Cinzia che ha appena finito l'intervento gestito da dottor Telara con il Navident, il sistema di chirurgia guidata dinamica. Che impressione ha avuto da paziente? Sicuramente di essere in buonissime mani usando una precisione poi da normale, qualcosa di particolare veramente. Perfetto, grazie della sua esperienza. Siamo con la signora Sara che esce appena uscita da un intervento con il dottor Telara. Io volevo domandare alla signora Sara che tipo di aspettativa si era fatta dell'intervento sapendo che il dottor Telara avrebbe utilizzato uno strumento per la chirurgia guidata dinamica e poi qual è stata di fatto la sua esperienza adesso uscendo da questo tipo di intervento. Quindi che idea aveva prima e che idea si è fatta adesso dopo l'intervento. Se può condividere queste due parole, due cose, due concetti con noi. Prima pensavo all'intervento un po' di paucura perché non sapevo cosa andavo incontro. Comunque l'intervento era tranquilla perché ci sono tutti i macchinari appropriati. Diciamo che dopo l'intervento sono in nostra contenta perché il lavoro è stato fatto con molta attenzione nel senso che hanno guardato con precisione le parti da trattare e per cui prima di procedere all'operazione sono stati molto attenti a fare l'operazione diciamo più appropriata. Questa è l'esperienza che hai avuto adesso con l'intervento fatto? Sì, con l'intervento fatto. Perfetto. Signora Sara, grazie e buona giornata. Grazie. Allora, Leonardo, questo è il tuo quarto intervento chirurgico ma è stato il tuo primo intervento con il Navident. Qual era la tua aspettativa prima e qual è l'esperienza dopo? Che aspettativa avevi prima di fare questo intervento? Bella domanda. Penso sia una cosa molto innovativa questa cosa. Cosa te lo fa pensare che questa cosa sia stata innovativa? Diciamo che tutte le cose si stanno evolvendo. Quindi la tua esperienza dopo l'intervento, no? Sì. Se confrontata agli interventi che hai fatto, secondo te in che modo è diversa? Se il tuo intervento sia più importante sulla decisione, è molto interessante. Non ci sono anche sui risultati finali. Sui risultati finiti. Ok. Comunque, l'intervento, se non l'hai sofferto, è stato un intervento veloce. Ok. Grazie Leonardo e buona giornata. Ciao. Grazie.